A settembre scatterà l'ora dell'udienza preliminare per 61 persone indagate nell'inchiesta antimafia Chimera, con cui i carabinieri fecero luce sull'attività delle cosche mafiose di Mazzarino, in particolare sull'attività del clan San Filippo. I 61 imputati, per i quali il PM Davide Spina ha già firmato la richiesta di rinvio a giudizio, compariranno davanti alla GUP Graziella Luparello. Non ci sono solo le accuse di mafia, estorsione con richieste di pizzo a commercianti e imprenditori e di droga per un vasto giro di cocaina, ma anche quelle legate a due casi di lupara bianca risalenti al periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta. In quel periodo, infatti, secondo la ricostruzione investigativa, il clan San Filippo si rese responsabile degli omicidi di Benedetto Bonaffini, operaio 22enne, e di Luigi Labella, detto Tavuligia, che aveva 28 anni quando scomparve. Salvatore San Filippo è accusato del delitto Bonaffini, risalente al 15 giugno del 1984, e anche dell'omicidio di Labella, del 18 agosto 1991. Di questo secondo delitto rispondono anche Beatrice Medicea, moglie di Salvatore San Filippo, Maurizio San Filippo e Andrea San Filippo. Erano gli anni della guerra tra Stigio e Cosa Nostra, che insanguinò la parte meridionale della provincia nissena. Bonaffini venne sequestrato, picchiato selvaggiamente perché fosse spinto a rivelare informazioni sui clan rivali, e poi strangolato. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Luigi Labella era sospettato di essere il custode delle armi di uno dei clan rivali, e prima di essere strangolato venne interrogato a lungo, picchiato selvaggiamente e torturato. Il suo corpo, che non è stato ritrovato, venne poi gettato in un pozzo nelle campagne di Mazzarino.